stasera alle 20 e 30 su canale 5 tele mike conduce mike buongiorno su italia 1 questo e quello con renato pozzetto e nino manfredi su rete 4 per cinema oggi un caso di violenza carnale con valeri harper stasera passa la tua serata tra amici bello o simpatico forte o tento timido o estroverso brillante o coraggioso come lo vuoi tuo principe azzurro se non hai le idee chiare guarda canale 5 il venerdì puoi scegliere tra i sei pretendenti un principe azzurro il tuo preferito guarda rappella il venerdì troverai i principi dello spettacolo il balletto più forte del momento il balletto di saranno famosi il venerdì è di festa su canale 5 con il principe azzurro rotture strane in casa rossi niente paura superatta che l'adesivo soprannaturale che salda all'istante riso gallo blonde risotti sempre al dente daniela e marina sono due fiere scarpette rosse ma quante volte ci si sporca per arrivare al successo così la mamma di daniela lava a mano in modo forte la mamma di marina invece con aria e liquido pulisce dolcemente in acqua fredda e prova dopo prova giorno dopo giorno eccole al debutto ma mentre daniela è ormai una sbiadita scarpette rosa marina con aria è brillante in forma come sempre aria e liquido anche con i tuoi delicati fredda lo sporco accarezza i colori pizzaiola locatelli pizzaiola locatelli regala la splendida porcellana di risciargi nori il set di coppette per salse e antipasti raccogli i punti dalle confezioni pizzaiola locatelli in una ridente campagna che scende dolcemente al mare dove il terreno è soffice e ruggidoso crescono dei piselli delicatissimi noi del cuore verde li chiamiamo le gemme di primavera piccoli come perle sono i più dolci e così temeri che si sciolgono in bocca solo il meglio è cuore verde da findos mamma oggi l'ines non si accontenta più di fare i pannolini per maschietti e per femminucce i nuovi l'ines hanno sul flap uno strato speciale uno strato speciale che blocca l'umidità di ritorno tanti granellini come questo che assorbono gocce così grandi e le trasformano in morbida gelatina guardate per questo i nuovi l'ines danno un asciutto mai visto fammi un po' vedere guarda no la mia cavata un asciutto mai visto nuovo l'ines per maschietti e femminucce nessun culetto al mondo è più asciutto alla standa se ne vedono di tutti i colori blu giallo rosa verde 100% cotone a 15.000 lire e due costano solo 24.000 corri alla standa riso gallo blonde risotti sempre al dente settore attenti presenta beh cosa c'è ma lo sanno tutti oramai che noi due presenteremo il gran premio della tv importantissimo ma come no tutti noi saremo lì presenti sicuramente ci sarà mai con giorno beh certamente io ci sarò ma spero che ci sarai anche tu te l'hanno dato il permesso non vorrei farvi avere dei guai no 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 comunque stiamo scherzando tutti e due saremo presenti in occasione dell'assegnazione dei telegatti ricordatevi martedì 9 maggio alle 20 e 30 su canale 5 canale 5 quando una crema è così fresca e così ricca di crema di latte tutti si alzano per Danet se ne vogliono ancora non ditevi no crema fresca da Danet con crema di latte buona sana peace come communicate with minds that are small with some people it's like talking to the wall and the fellow who walks away lips to battle another nivea bagno crema nuovo con proteine rispetta la tua pelle con dolcezza perché è neutro nivea bagno crema riscopri il piacere di un bagno di bellezza riscopri il piacere di un bagno di bellezza dissetta la mente 101 da San Pellegrino il gusto sconvolgente 101 100 bollicine e una stella in tv sorrisi e canzoni di questa settimana gran premio internazionale della tv tutti i candidati al telegatto d'oro e le 100 stelle del gran galà allegria il bingo continua tv sorrisi e canzoni lo spettacolo nelle tue mani nivea fluida prolunga il piacere del bagno la mayonnaise craft è finita 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 quando manca mayonnaise craft è finita manca tutto l'hanno finita di nuovo portagliela su si papà perché solo mayonnaise craft ha un sapore che è una vera poesia craft cose buone dal mondo malizia uomo after shape in gel vi offre povero di tasca non c'ho una lira tanto ricco di cuore purtroppo si sa non si campa di solo cuore e allora aiutati che cert'aiuta eh non è così semplice fietto mio posso avere tutto quello che voglio ogni cosa che desidero ornella non mi sa sperare che io scadino tuoni e fulmini sa ma non approfittarne quando c'è voce Enrico Montesano o Renato Pozzetto pulo e camicia lunedì alle 20.30 su canale 5 a volte gli amici sono ospiti a sorpresa come accoglierli bene con un dolce speciale una torta millefoglie millefoglie cameo una novità è subito pronta la crema è istantanea e non ha bisogno di cuocere il risultato? un successo ma come hai fatto? facile è millefoglie cameo subito pronta io la mamma non la farò mai io di lavorare per tutti poi di fare da mangiare e la colazione e andare a letto tardi per darvi il bacio della buonanotte non non beh ora la mamma ti è sfogata buonanotte bambini a tutte le mamme auguri da standa noi stiamo in campagna appena fuori dalla città e con noi c'è una famigliola di gatti Leo, Gigia e Digetto sono diversi questi gatti di tante cose ma su una cosa sono tutti d'accordo viscas tra tanti gusti da scegliere c'è sempre quello che fa venire la polina in bocca quando Leo è felice me lo fa capire il mio gatto preferisce viscas dite basta agli inestetismi della cellulite con la novità di Vichy anticellulite forza 30 prima settimana inizia il trattamento da tanto seconda settimana gli inestetismi della cellulite si riducono sensibilmente terza settimana la pelle si rassoda e i risultati durano nel tempo per essere sempre in linea un solo trattamento cosmetico con tre azioni specifiche nuovo anticellulite forza 3 di Vichy in farmacia invernizzina invernizzi mozzarì regalano i trasparenti l'autore di guzzini a prestigio in tavola coi trasparenti di guzzini regalo di mozzarì e invernizzina fra i nuovi sistemi di lavaggio le grandi marche di lavatrici hanno scelto Dosa Dash puoi scegliere tu la dose giusta e niente residui è l'unico inserito in un milione di nuove lavatrici all'anno Dash liquido e le grandi lavatrici inseparabili oggi Valfrutta ti porta i piselli della natura per dare un tocco di tenerezza ai tuoi piatti Valfrutta la natura di prima mano grazie a tutti grazie a tutti